è fatta ragazzi è fatta alvaro morata è un nuovo giocatore del milan il milan ufficializza il primo acquisto di questo calcio mercato è arrivato l'erede appunto di olivier girou sarà appunto alvaro morata il nuovo numero 9 del milan per la prossima stagione prenderà il posto di ormai olivier girou che ormai è passato appunto in mls percepirà anche un bel ingaggio ma ne parleremo delle cifre dell'operazione il milan ha deciso di pagare la clausola recessoria entro questa settimana ci saranno anche le visite mediche la firma del contratto e prima di tutto ciao ragazzi e bentornati in questo video qui è già per oggi siamo qui ragazzi in un nuovo video appunto qui per un video di calcio mercato parliamo di calcio mercato milan vi ricordo che questo pomeriggio è uscito un altro video di calcio mercato recuperatelo quindi ristate sintonizzati per i prossimi video che usciranno quindi mi raccomando un bel mi piace per il sostegno del canale mi raccomando sotto con un commento ditemi la vostra su questa operazione di calcio mercato vedete tutto il video fino alla fine per sapere la mia il voto che darò a questa operazione di calcio mercato al ds del milan e a quest'operazione complessiva vedete il video fino alla fine e mi raccomando seguitemi social instagram e tutti i social trovate sotto in descrizione recuperate gli ultimi video li trovate qua sopra in alto nelle schede a fine video recuperateli e ristate sintonizzati per tutti i nuovi video che usciranno durante la settimana buona visione vamos appunto alvaro merata attaccante classe 1992 31 anni ne deve fa 32 praticamente a 23 ottobre compera 32 anni non è un giocatore giovane ma un giocatore esperto anzi molto esperto ha esperienza internazionale ha giocato in premier league ha giocato in liga ha giocato già in serie a una vecchia conoscenza ha giocato nella juventus per diverse stagioni i tifosi juventini lo ricorderanno molto bene quel tandem lì con dibala morata e si tornerà a rivedere morata a me piace tantissimo morata l'avrei voluto vedere molto volentieri alla roma purtroppo il milan era più diciamo su di lui la roma aveva aveva variato varie scelte aveva un ventaglio di scelte mentre il milan si era focalizzato appunto su alvaro morata e quindi se lo accaparrà lui il nuovo se lo accaparrà il mio nuovo numero 9 appunto e lui è una punta centrale la classica punta ma non è solo la punta che segna ma fa anche segnare un giocatore che fa anche si rende disponibile anche ad aiutare i compagni e in questo europeo tra l'altro fresco di vittoria di questo euro 2024 con la sua spagna da capitano alzato appunto l'europeo in questo europeo ha giocato veramente sempre e ha segnato un gol e un assist poi nella sua carriera diciamo è stato sempre un bomber dovunque è stato tra l'altro ha vinto anche due titoli di capocannoniere uno lo scorso anno mi pare o comunque uno l'ha vinto con l'atletico madrid se non sbaglio e l'altro non mi ricordo chi l'ha vinto comunque vinto due titoli di capocannoniere ha vinto l'europeo da capitano con la spagna ha vinto due champions league ha vinto una mondiali per club e ha vinto due due appunto due serie a due due campionati di serie a e poi altri trofei che ha vinto anche in premier in serie alla coppa italia ha vinto vari trofei è un giocatore che di esperienza internazionale lui ha sempre giocato come punta però all'occorrenza può giocare anche insieme sia come punta singola ma anche come seconda punta in un attacco a due diciamo che lui segna e fa segnare alto 1,89 con la sua nazionale appunto nella nazionale maggiore in 80 presenze con la nazionale ha segnato ben 36 gol che sono veramente tanti una media di un gol ogni circa ogni ogni due partite più o meno una media pazzesca con la nazionale quasi un gol ogni due partite tra l'altro è pure rigorista è un buon rigorista tra l'altro nella juve ci ha giocato praticamente fino al 2000 dal 2022 passato no dal 2022 la stagione 2021 2022 è passata all'atletico però se non diciamo che nel 2000 nella stagione quando è stata la juve c'è stato e poi è tornato e poi ripartito è stato un anno alla juve praticamente dal 2014 al 2016 per due anni abbondanti alla juve e poi è tornato alla real madrid che ha pagato la diciamo ci aveva la ricompra se non sbaglio non mi ricordo l'ha ricomprato non mi ricordo real madrid e poi ha girato appunto la premier league con il celsi è andato poi all'atletico e l'anno scorso è stato un anno alla juve no l'anno scorso nel 2021 è tornato alla juve per un anno per poi ritornare all'atletico e in queste stagioni diciamo che ha segnato molto in spagna il campione di riferimento ha fatto veramente tanti gol e infatti vado a ricoportare un po le statistiche con la spagna appunto ve l'ho detto già con l'atletico madrid in questi ha praticamente giocato ha segnato bene allora quindi il primo anno all'atletico 15 presenze 6 gol e 1 assist secondo anno all'atletico 34 presenze 12 gol e 2 assist nel 2022 2023 36 presenze 13 gol e 2 assist l'ultima stagione con l'atletico madrid 32 presenze 15 gol e 3 assist il minas lo accaparra per praticamente con una cifra appunto come riporta sky sport gianluca di marzo e fabrizio di marzo per una cifra appunto abbordabile perché decide di pagare la clausola recessoria di 13 milioni di euro che previsti dalla clausola il minare che da diverse settimane che era sul calciatore firmerà appunto un contratto di quattro anni con opzione per il quinto anno quindi fino al 2028 con l'opzione del quinto anno fino al 2029 e questa settimana appunto ci sarà appunto le visite mediche nel fine settimana e però c'è da dire quanto costerà a livello di ingaggio perché lui comunque prendeva quasi 5 milioni di euro all'atletico infatti stava sotto contratto con l'atletico madrid un contratto non mi ricordo quanto prendeva 5 milioni e rotti al minano dovrebbe percepire uno stipendio pari a 4 milioni 4 milioni e mezzo netti a stagione più bonus fino alla scadenza fino a giugno 2028 dovrebbe firmare quindi fino a giugno 2028 uno stipendio di 4 milioni e mezzo netti più bonus ma con il decreto crescita lo stipendio dovrebbe essere pari a 3,25 milioni d'euro netti lordi sarebbero 8.33 milioni d'euro per una cifra complessiva pari a 11,58 milioni d'euro in questa stagione il minano pagherà 11,58 milioni d'euro grazie anche al decreto crescita si abbasserà anche tutto il costo perché comunque è un 32 anni e come voto quindi al ds del rosso nero a l'antonio d'ottavio il nuovo ds rosso nero e diciamo a quest'operazione calcio mercato do un 8 ragazzi do un 8 ragazzi per questo è un ottimo colpo non voglio esagerare coi voti però da un 8 8 8 someria 8 tondo 8 tondo 8 pieno 8 pieno perché questo è un colpo che se si rivede quel morata che stava la juventus ragazzi o quello che ho visto negli ultimi anni appunto in liga secondo me il minano a 13 milioni d'euro ha fatto un colpaccio lo stipendio ci sta che sia alto però comunque so è pagabile come stipendio 4 milioni e mezzo più o meno è quanto prendeva girù più o meno prendeva incirca lo stesso stipendio fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa operazione di calcio mercato da già preso è tutto iscrivetevi e noi come ci vediamo al prossimo video beh ragazzi sempre comunque forse calcio iscrivetevi e ciao belli ciao